In questo tutorial vediamo degli esempi di sistemi con equazioni logaritmiche. Partiamo da questo primo esempio. Come prima cosa fisso l'attenzione sugli argomenti dei logaritmi che contengono un'incognita e devo imporre una condizione di esistenza, ossia che questi argomenti devono essere positivi e allora vado a scrivere y meno x maggiore di 0, x maggiore di 0 ed y maggiore di 0. Per quanto riguarda la prima disequazione porto meno x a secondo membro ed ottengo che y deve essere maggiore di x. Una volta impostate le condizioni di esistenza torno al sistema. Fisso l'attenzione sulla prima equazione. Devo scrivere meno 1 utilizzando il logaritmo in base un mezzo e allora ricopio il primo membro logaritmo in base un mezzo di y meno x uguale logaritmo in base un mezzo di un mezzo elevato al numero che abbiamo, ossia meno 1. Per quanto riguarda la seconda equazione porto questo 2 all'interno del logaritmo e scrivo logaritmo in base un mezzo di x alla seconda meno logaritmo in base un mezzo di y e poi vado a ricopiare il secondo membro dell'equazione. Per quanto riguarda la prima equazione abbiamo logaritmo in base un mezzo a primo e a secondo membro e allora posso passare all'equazione composta dai loro argomenti e scrivo y meno x uguale un mezzo elevato alla meno 1 risulta essere pari a 2. Passo ora alla seconda equazione. A primo membro ho una differenza di logaritmi e allora posso scrivere il logaritmo in base un mezzo del rapporto dei loro argomenti x alla seconda fratto y uguale logaritmo in base un mezzo di 9 quinti. Ora anche nella seconda equazione abbiamo logaritmo in base un mezzo a primo e a secondo membro e posso passare all'equazione composta dai loro argomenti e vado a scrivere x alla seconda fratto y uguale 9 quinti. Per quanto riguarda la prima equazione esplicito il valore della y ed ottengo y uguale x più 2. Ora per quanto riguarda la seconda equazione eseguo il minimo comune multiplo risulta essere pari a 5y e scrivo 5y a primo e a secondo membro ed ottengo 5x alla seconda uguale 9y. Semplifico i denominatori. Dovrei imporre come condizione di esistenza che y deve essere diverso da 0 ma già so che y è una quantità positiva. Per quanto riguarda la prima equazione metto una freccia con cui intendo che ho ricopiato y uguale x più 2. Ora qui effetto una sostituzione. Al posto di questa y scriverò x più 2 ed ottengo 5x alla seconda uguale 9 che moltiplica x più 2. Eseguo questa moltiplicazione e porto tutto a primo membro. 5x alla seconda meno 9x meno 18 uguale 0. Ho così un'equazione di secondo grado che vado a risolvere. x uguale meno b ossia 9 più o meno radice quadrata di meno 9 alla seconda ed ottengo 81. E meno 4 per 5 per meno 18 ottengo più 360 tutto quanto fratto 10 uguale 9 più o meno 81 più 360 è pari a 441 la cui radice quadrata è 21 fratto 10. Ottengo così due soluzioni. 9 più 21 è pari a 30 diviso 10 ed ottengo 3. 9 meno 21 è pari a 12 dividendo per 10 si ottiene meno 6 quinti. Devo ora stabilire se le soluzioni in x sono soluzioni ammissibili. Ricordo che x deve essere una quantità maggiore di 0. 3 è una quantità maggiore di 0 e allora è una soluzione ammissibile. Mentre meno 6 quinti non è maggiore di 0 e quindi dovrà essere scartata. Una volta determinato il valore di x che è pari a 3 andiamo a determinare il valore della y tornando a questo passaggio. Al posto della x sostituiamo 3 ed otteniamo che y risulta essere pari a 5. Osservo che 5 non solo è una quantità maggiore di 0 ma verifica anche quest'altra condizione y maggiore di x. Effettivamente 5 è maggiore di 3 e allora la soluzione del sistema è la coppia 3 5. Passiamo a questo secondo esempio. Come prima cosa fissiamo l'attenzione sugli argomenti dei logaritmi e dobbiamo imporre come condizioni di esistenza che x deve essere maggiore di 0 e y deve essere maggiore di 0. Per risolvere questo sistema possiamo applicare il metodo di riduzione. Sommiamo in verticale logaritmo in base 2 di x più logaritmo in base 2 di x ottengo 2 logaritmo in base 2 di x. Abbiamo poi meno logaritmo in base 2 di y più logaritmo in base 2 di y le quantità s'annullano. Uguale 4 più 0 ed ottengo 4. Ho così un'equazione. Divido tutte e due membri per 2. In questo modo semplifico il coefficiente di logaritmo in base 2 di x. A secondo membro 4 diviso 2 risulta essere pari a 2. riscrivo e do logaritmo in base 2 di x uguale 2. Poi rimetto la parentesi graffa e metto una freccia indicando che vado a ricopiare o la prima o la seconda equazione. In particolare fisserò l'attenzione poi sulla seconda equazione. Adesso vado a riscrivere per quanto riguarda la prima equazione questo 2 utilizzando il logaritmo in base 2. E allora logaritmo in base 2 di x uguale logaritmo in base 2 di 2 elevato al numero che abbiamo, ossia 2. 2 alla seconda è pari a 4, cancello 2 alla seconda e scrivo direttamente 4. Ora che ho logaritmo in base 2 a primo e a secondo membro passo all'equazione composta dagli argomenti dei logaritmi ed ottengo x uguale 4. Una volta determinato il valore della x vado a sostituire nella seconda equazione. In particolare qui al posto di x mettiamo 4 ed ottengo logaritmo in base 2 di 4 più logaritmo in base 2 di y uguale 0. Osservo che ho una somma di logaritmi e allora ricopio la prima equazione e per quanto riguarda questo membro posso scrivere il logaritmo in base 2 del prodotto dei loro argomenti, ossia 4y uguale 0 lo scrivo utilizzando logaritmo in base 2 e quindi ho logaritmo in base 2 di 2 elevato al numero che abbiamo, ossia 0. 2 alla 0 è pari a 1 quindi cancello e scrivo direttamente 1. Adesso ho logaritmo in base 2 a primo e a secondo membro e allora posso passare all'equazione composta dai loro argomenti. Ricopio la prima soluzione mentre per la seconda equazione ho 4y uguale 1. Divido infine tutte e due membri per 4, in questo modo semplifico il coefficiente della y ed ottengo x uguale 4, y uguale un quarto. Osservo che 4 verifica la prima condizione, ossia x maggiore di 0 e un quarto verifica la seconda condizione, ossia y maggiore di 0. E allora la soluzione di questo sistema è la coppia 4 un quarto. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa dobbiamo fissare delle condizioni di esistenza andando a scrivere che x meno y deve essere maggiore di 0, x maggiore di 0 ed y maggiore di 0. Per quanto riguarda la prima disequazione, porto meno y a secondo membro e quindi x maggiore di y. Una volta impostate le condizioni di esistenza, torniamo al sistema. Per quanto riguarda la prima equazione, andiamo a riscrivere questo 1 utilizzando il logaritmo in base 3. Ricopio il primo argomento e poi scrivo uguale logaritmo in base 3 di 3 elevato al numero che abbiamo, ossia 1. Per quanto riguarda la seconda equazione, a primo membro abbiamo una somma di logaritmi e allora passo al logaritmo in base 3 del prodotto dei loro argomenti. Uguale, questo 2 lo posso portare all'interno del logaritmo ed ottenere logaritmo in base 3 di 2 alla seconda, ma 2 alla seconda è pari a 4, quindi cancello e scrivo direttamente 4. Osservo ora che per quanto riguarda la prima equazione ho logaritmo in base 3 a primo e a secondo membro e allora posso passare all'equazione dei loro argomenti e scrivo x meno y uguale 3. Per quanto riguarda la seconda equazione ho logaritmo in base 3 a primo e a secondo membro e allora anche in questo caso passa l'equazione composta dei loro argomenti, x y uguale 4. Risolvo ora questo sistema. Apro la graffa, per quanto riguarda la prima equazione posso scrivere x uguale y più 3 e vado a sostituire qui al posto della y ed ottengo y più 3 per y uguale 4. Metto una freccia per indicare che sto ricopiando questa quantità, eseguo la moltiplicazione e porto 4 a primo membro ed ottengo y alla seconda più 3y meno 4 uguale 0. Ho così un'equazione di secondo grado che vado a risolvere. y uguale meno b, ossia meno 3, più o meno, radice quadrata di 3 alla seconda ottengo 9 e meno 4 per 1 per meno 4 ottengo più 16, tutto quanto fratto 2. Meno 3 più o meno, 9 più 16 è pari a 25, la cui radice quadrata è 5, tutto quanto fratto 2. Ottengo due soluzioni. Meno 3 più 5 è pari a 2, diviso 2 ed ottengo 1. Meno 3 meno 5 è pari a meno 8, diviso 2 ed ottengo meno 4. Ho così due soluzioni. Devo stabilire se sono soluzioni ammissibili. Osservo che 1 è una quantità maggiore di 0, meno 4 invece non è una quantità maggiore di 0. Quindi meno 4 come soluzione la escludiamo. Determinato il valore della y che è pari a 1, andiamo a determinare il valore della x. Qui, al posto di y, scriviamo 1 e quindi si ottiene che x è pari a 4. Osservo che 4 è una quantità maggiore di 0, inoltre viene verificata questa proprietà, ossia che x è maggiore di y. Effettivamente 4 è maggiore di 1 e allora posso dire che la coppia 4-1 è una coppia accettabile ed è la soluzione di questo sistema. E con questo termino il tutorial su esempi di sistemi con equazioni logaritmiche.